Operazione antidroga dei carabinieri di Cerignola, arrestate sei persone, tre spacciatori e tre assuntori che per non essere fermati avevano tentato la fuga a bordo delle proprie autovetture, reagendo poi con violenza al controllo. I tre erano stati sorpresi mentre rincasavano dopo essere stati nel quartiere San Samuele di Cerignola, nota piazza di spaccio del centro Fantino. Sempre a Cerignola i carabinieri hanno arrestato Michele Fuscaldi, incensurato del posto per detenzione e fine di spaccio di marijuana e cocaina. Con il cane antidroga i carabinieri all'interno della sua abitazione hanno trovato 1.190 grammi di marijuana custoditi in un secchio sigillato, 72 grammi di cocaina, di cui 8 in polvere suddivisi in dosi e già pronti per lo spaccio e 64 ancora in pietra, il valore della droga sequestrate di circa 20.000 euro. Un arresto per detenzione spaccio di sostanze stupefacenti anche a Margherita di Savoia, ai domiciliari un pregiudicato di 30 anni sorpreso con 40 grammi di marijuana, 26 di hashish e 4 di cocaina.